Mi è venuto in mente di proporvi delle note anche prosaiche, fare lo sforzo di ricondurre in terra le premesse che Matteo e Florian hanno fatto fin qui e forse questo può anche essere utile come elemento collaterale rispetto poi alle cose che probabilmente dirà toni. Insomma tra l'astrazione e lo sciopero ci sta almeno una seconda parola che è lavoro e ci sta almeno una seconda questione che è la soggettività. E allora penso che bisogna, come dire, quello che vi propongo è di provarci a mettere il di Tino. Come sapete su questo tema c'è una tradizione ormai, una pubblicistica molto ampia soprattutto in Italia sul tema della precarietà, un lavoro anche di inchiesta che è arrivato ormai a risultati anche qualitativamente molto importanti, penso al lavoro lungo che è stato fatto per esempio da molte compagni e compagni a Milano, tutto ciò che si sedimenta anche nella discussione attorno al social strike eccetera. E tuttavia la ricchezza di questo lungo lavoro di inchiesta sul lavoro autonomo, precario, intermittente, creativo a me sembra come come dire trascurata o addirittura piegata da un'altra serie di pubblicazioni che affrontano il tema per così dire dal punto di vista teorico. Mi riferisco per esempio al modo in cui molte pubblicazioni, cito magari qualcuna, utilizzano le analisi fucoltiane del capitale umano facendone il fulcro del ragionamento attorno alle ricchezze e alle difficoltà del lavoro creativo e del suo agire politico. Letture che anche a dispetto del povero Foucault, seppure importanti dal punto di vista analitico a me sembrano invece povere come bloccate dal punto di vista strategico come se restassero appese a vecchie domande rispetto ad un contesto del quale invece si riconosce che tutto è cambiato. E allora proviamo a prenderlo dal lato un po' più teorico questo tema della precarietà. Già attorno alla fine degli anni 90, come è noto, Boltanski che appello in un libro che peraltro è stato finalmente tradotto in italiano da poco, indagavano la crisi del sistema salariale classico, incentrato sulla fabbrica fordista, sul pieno impiego, eccetera, riconoscendo che ciò dipendeva sostanzialmente dall'emergere di pratiche di lotto per aia, in particolare negli anni 70, che avevano articolato il rifiuto del comando capitalistico sul lavoro, rivendicando istanze di variazione, di fluidità e di mobilità nel lavoro. Cioè emergeva una nuova soggettività che peraltro i due autori, in modo secondo me significativo, mettevano in connessione con il diffondersi di pratiche artistiche e culturali che da allora in poi diventeranno il modello dell'individuo produttivo nella società post-industriale, quell'imprenditore di sé capace di costruire relazioni sociali, di produrre rotture creative, innovazioni che vengono poi valorizzate dal capitale cognitivo. Di questa storia peraltro esistono, come sapete, moltissime versioni, ce ne sono anche delle versioni, lo dico ironicamente, felici. Penso ad esempio al lavoro di Pierre-Michel Menger, testa d'uovo dell'Accademia francese, nonché principale interprete della polemica contro il movimento degli intermittenti dello spettacolo e specialista del lavoro artistico, che da molti anni ormai prova a convincere il mondo del cognitariato di quanto sia meraviglioso imparare a s'accomplire dall'incertezza, a realizzarsi nell'incertezza, e di quanto questa condizione giovi alla creatività, all'inventività del lavoro artistico. Ora, però, questa storia, come è noto a tutti noi, non è affatto una storia felice, e non è neanche una storia lineare, è una storia piena di contraddizioni, a mio parere almeno da due punti di vista. Il primo luogo perché le istanze di libertà e indipendenza rivendicate da quel primo ciclo di lotta sembrano ormai interamente tradotte in forme di dominio, di insicurezza, di sottomissione, appunto astratte. Insomma, se da una parte sono mutati i modi di soggettivazione, se si sono allargati i desideri di accesso al consumo, dall'altra si sono ampliati, attraverso la finanza e il debito, meccanismi generatori di autosfruttamento dei lavoratori autonomi. E non è una storia felice, secondo me, anche sotto un secondo aspetto, comunque non lineare, non pacifica, perché questo nuovo assetto sembra comunque incapace di risolvere la contraddizione strutturale che si produce tra dinamica della creatività e dell'innovazione e dinamica del consumo. Per dirla esplicitamente, il capitalismo cognitivo, nella sua versione neoliberista, sembra indissociabile da un paradosso. Per cui, mentre si celebra la libertà, l'autonomia, la singolarità del lavoro creatore, dall'altra parte il lavoro appare costantemente sotto attacco, ridotto, riconfigurato, normalizzato, fino al punto, come ci ha spiegato varie volte Maurizio Lazzarato, che ho visto prima qui, da dover ricorrere ad uno strano, dice lui, uso ossessivo e inflazionistico del concetto di creazione e di creatività. Le industrie creative, il lavoro creatore, la classe creativa, i creativi della moda, i creativi della pubblicità e così via. Questo aggettivo è permanente nella definizione del lavoro cognitivo, ma mi pare, giustamente, diceva Maurizio in vari suoi scritti, questo uso ossessivo nasconde piuttosto delle pratiche effettive che sono pratiche di laminazione della soggettività. Come se la cattura del valore, la strazione del lavoro, fosse destinata a spegnere dappertutto proprio quella creatività che invece cerca ossessivamente di captare. Insomma, è come dire che in fondo il rapporto sociale imposto dai circuiti di valorizzazione finanziaria non è all'altezza, non è più utile al potenziamento e all'organizzazione della produzione, ma al contrario la deprime e la frammenta, tanto che è costretto a presupporre sempre una specie, dice ancora Maurizio, di urgenza vitale di risingolarizzare almeno un po' la soggettività che deprime e frammenta. Ora, a fronte di queste due contraddizioni che sarebbero, a mio avviso, come dire, oggetto di lavoro politico, si sono diffuse invece una serie di letture che rappresentano la società del lavoro autonomo come fosse completamente dissolta in stati di liquidità e i relativi modi di vita che ne derivano, di conseguenza, sono descritti unicamente per via difettiva e negativa o comunque debole. Il lavoro creativo, si dice, è interamente prodotto da la nuova ragione del mondo, singolare e con l'articolo determinativo. Non ci sono altre ragioni nel mondo, non c'è contraddizione. Il lavoro creativo, autonomo, non ha densità e ciò impedisce anche solo di pensare a forme di composizione politica. Ora, questo tipo di ragionamento, lo dico anche per introdurre qualche elemento di attualità nella nostra discussione, in effetti invece ha delle conseguenze politiche. Insomma, la domanda che vorrei porvi e magari potrebbe essere una parte della nostra discussione è se il quadro è questo, se il lavoro autonomo, creativo, precario è completamente preso dalla nuova ragione del mondo, ci serve ragionare di sciopero? E la risposta che mi viene da dare è no. Perché se la soggettività è tutta e unilateralmente presa nel dispositivo di autosfruttamento, se non ci sono margini materiali di libertà su cui il comando capitalistico fa presa, se questo comando vola, su nulla, se l'insieme del lavoro può essere descritto come un corpo unilateralmente docile, funzionale, strutturato solo secondo criteri economici e di profitto in vista di obiettivi di efficacia e di efficienza e perciò è incapace di determinare strategie politiche di conflitto, allora non c'è alcuno spazio per lo sciopero. Ed è assurdo persino pensare di porsi appunto il problema di un conflitto che sia politicamente efficace. Se è così, lo dico esplicitamente, la riproduzione mimetica del riot urbano, l'estetica della forma casseur, per fare degli esempi concreti attuali, sono perfettamente sufficienti, perché rappresentano un livello di qualificazione della soggettività debole, inerme e strutturalmente sottomessa. e proprio nella loro natura di rappresentazione, di testimonianza, queste forme mettono in scena un'estraneità, un rifiuto, un esterno escluso che poi può chiedere inclusione, fatemi partecipare al banchetto, oppure può rivendicare una ragione altra, esterna rispetto a quella del circuito consumo e produzione. Insomma, a me pare che si tratti di tattiche che sono perfettamente congruenti con tutte quelle letture, comprese quelle più raffinate, qui penso a Dardoe e Laval, per esempio, che definiscono il comune come una ragione altra ed esterna rispetto al dispositivo di estrazione biopolitica del valore prodotto. Come del tutto evidente, sono forme politiche che non hanno nulla a che vedere con quella dello sciopero, che invece è stato sempre essenzialmente un'azione soggettiva efficace, capace di fare male, condotta esattamente all'interno del momento e alla valorizzazione, direi sul confine che separa il punto di vista operaio da quello del padrone o il comune dalla proprietà. E infatti io penso che queste letture siano unilaterali e deboliste e che non ci servono, non sono più sufficienti per definire le condizioni politiche, la composizione politica della produzione postindustriale. A mio avviso, questa è la proposta che vi chiedo di discutere, si tratta di posizionare diversamente il nostro sguardo e di tornare esattamente su quel confine che tiene insieme e separa creatività ed estrazione di profitto per porre in evidenza l'attività e non solo la passivizzazione che si produce in questo passaggio. Insomma, che cosa diciamo quando diciamo che il lavoro si è fatto intellettuale, cognitivo, creativo? diciamo che esso si fonda, contiene una libertà non negoziabile e quando diciamo che la produzione è cooperativa e socializzata diciamo che nel lavoro c'è un'uguaglianza che è il suo elemento qualificante per il semplice motivo che senza libertà e senza uguaglianza il lavoro non sarebbe più produttivo. Insomma, in ogni caso la precarizzazione del lavoro da questo punto di vista non è altro che una strategia tanto più brutale e incivile quanto più riconosce un poderoso incremento della potenza e delle capacità del lavoro che va perciò frazionato e disperso perché altrimenti sarebbe incontenibile all'interno delle frontiere del rapporto sociale dato. Per arrivare a concludere si è detto lavoro immateriale cognitivo comunicativo affettivo e allora come si retribuisce questo lavoro? Come si fa a misurare il valore e a definirne il costo o determinare il salario adeguato alla riproduzione di una forza lavoro cooperativa e sociale la cui attività coincide con tutta e intera la vita? Il sistema salariale classico evidentemente in queste condizioni non può riuscirci questa è un'evidenza logica diciamo così e di fatti le politiche neoliberiste sottraggono all'analisi dei tempi della giornata lavorativa la definizione del salario necessario e la riarticolano solo all'interno delle leggi della finanza e del debito per rendere elastico e negoziabile il dispositivo di produzione di plusvalore assoluto e relativo come le allocazioni di lavoro retribuito e non retribuito e l'intreccio tra lavoro produttivo e improduttivo ma allora è attorno alle regole della distribuzione finanziaria del reddito del debito dei consumi delle istituzioni di welfare ovvero attorno alle condizioni della riproduzione che si deve contendere lo spazio del capitale perché il circuito della riproduzione equivale allo spazio della produzione soggettiva spazio di vita di creatività comune e cooperativa e quindi spazio di conflitto direttamente politico insomma è esattamente questione di democrazia ma per capirlo si deve accettare si deve ritornare a interrogare un soggetto produttivo forte capace di fabbricare mondo capace di produrre ricchezza eccedente rispetto alla relazione sociale perché in ogni caso è esattamente su questa eccedenza che il meccanismo di sfruttamento tenta di agire il capitale ha bisogno di questo elemento interno e antagonista è per questo che noi abbiamo ancora bisogno di sciopero perché nel biocapitalismo ci sono solo forze che lottano producendo e produrre significa implementare pratiche di alterazione dell'ordine del discorso della flessibilità del lavoro della finanza della governance dell'amministrazione della riproduzione delle nostre vite voglio dire astrazione ce lo siamo detti mille volte è una parola ambigua perciò non bisogna guardarla solo da un lato è ambigua perché designa la capacità del capitale di trasformare il lavoro in equivalente generale ma da questo noi non siamo autorizzati a dedurre la fine della materialità del soggetto produttivo semmai dobbiamo dedurne un potenziamento c'è insomma un'ontologia positiva uno spessore del lavoro che va tradotta in pratica e a mio avviso a questo serve interrogarsi sullo sciopero astratto come luogo di coalizione politica e come spazio di sperimentazione radicale della democrazia in un suo scritto famosissimo Deleuze rispondeva alla domanda che cosa è un atto di creazione dicendo un atto di creazione è un atto di resistenza e io penso che attorno a questo dovremmo rimboccarci le maniche grazie